Il Presidente della Corte d'Appello di Catania ha partecipato con questa serata, soprattutto con questi giovani, perché sono loro che debbono, più che ricordare, avere la memoria di quello che è accaduto. Certamente, la serata è stata impostata benissimo, non solo come una commemorazione, ma come un messaggio lanciato alla società, lanciato alla parte giovane della società, perché possa trarre spunto, trarre insegnamento da questi grandi personaggi che hanno tracciato le linee del nostro futuro, sacrificando financo la loro vita.